ok che vuole adesso oh ascolta devo dirti una cosa seria non sarà il massimo ma è importante che tu lo sappia brrr fatti forza mi raccomando io non ho parole giuro ciao a tutti ragazzoni io sono pensi vi chiedo subito scusa perchè purtroppo sul mio canale l'ignoranza è sovrana non ci posso fare niente se non faccio lo stupido io fanno gli altri ragazzi non ne uscirò mai da sta situazione ciao come stai mamma mia ragazzi che cosa si però non interrompere sto parlando con un cactus giocato comunque ragazzi lo so che l'amate questa serie qua perchè almeno non parlo sto zitto e siamo tutti contenti di che cos'è che sto parlando esatto vi giuro potessi esplodere adesso ho due bottigliette quale vado a prendere quella vuota ovviamente provo a non ridere con acqua in bocca qua ovviamente ho l'immancabile bacinelle ragazzi qua dentro ve lo giuro a parte che ha cambiato colore ma che cavolo c'ha posto la saliva acido solforico non so se si nota mancano pezzi qua dentro quanto pare sono un alien e non lo sapevo iniziamo che è meglio avete ragione anche voi si però potrebbero farle un po' più facilitate guardate le aperture di sti bot è in giù c'è aperto chi cavolo l'è chiude Hulk alla posta raga Gatti hit'em hit'em ci sia samba is in the the next one Non c'è un po' no 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 Alla prossima Quando cerco di resistere troppo Poi è normale che mi venga da vomitare Cioè non è normalissimo Solo dell'acqua in bocca Raga mettetelo Rispetto alle altre volte già Ho resistito di più Per me è una vittoria questa Ma che schifo Ma riesce a dire una parola senza scatarrare Ma non un lago E con questo Mi viene da vomitare Non è il massimo Pensate fosse me Era una vittoria che schifo Stava morendo Però credetemi Ho già fatto miracole E tra l'altro ancora non ho bagnato niente Cioè più di così Oggi raga si vola Non ho riso subito Non ho scratchato sui monitor Perfetto Andiamo Abbi Mi girò la testa Ma ma è possibile che veramente Era l'esistenza di un papavero? Ma non ho capito Buon voyage Buon voyage Non è bene a insultarmi Comunque Che schifo che faccio Mamma mia Ma avrete già chiuso il video da 7 minuti Ma per forza Dai Ma poi perché Controfavo Natale? Ma è velocissimo Poi questo gatto è morto Mi ha fatto diventare un pechinese Quello non ha capito Quello che doveva fare Sta limonando Mi chiedo scusa Cosa che mi stavo dicendo? Ovviamente devo rovinare tutto Adesso basta Penso solo a cose brutte Al mio naso Cosa Ai Ama Cosa Nite Nite Domenico Nite 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 zoniamo fai 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 aaf sc haiodass Non riesco più a parlare Segnalate i miei video avete ragione dai Guarda che schifo Questa non è ne acqua e ne saliva dai Ecco questo sono io tra qualche mese Perché costano i sensori Chiamo un amico e faccio prima Funziona anche meglio Povero Come va? Questa è lì così Dai stavo andando bene E' andata anche oggi Avete dubbi Io no A lo che io vine 3, 2, 1 Oh Basta Basta conati Avevo un problema allo stomaco Perché ho i conati? Ma che cosa ho visto? Una preparazione incredibile per irritare Tutto rigido e fiero E' scassata da sola Dai da 1 a 10 il video quanto è cringe? 42 avete ragione No è già finito Ma io ve lo Perché durerò così poco? Allora Ragazzi Beh dai I miei video vanno sempre meglio Comunque Sempre più intelligenti Sempre più strutturati Più Bello Sono veramente contento di me stesso E tra l'altro oggi ho rimesso il cappello a caso I capelli Proprio Tra sto video Capelli del genere Oggi mi giocavo al canale Detto questo ragazzi Che vi devo dire? Portate pazienza La mia stupidità forse andrà a scemare col tempo Cioè scemare no Nel senso che diventerò più scemo Di scemare nel senso Prima di concludere come sempre Adesso inizio a non sapere neanche più parlare Prima di concludere Vado a salutare Ginni Mega Amo i pangoccioli Anch'io solo che non li mangio Siamo per Yasbitox E Matthew Gamer Ciao ragazzi E il vincitore di oggi Yasbitox Grandissimo E raga mi raccomando se volete siano salutati Mi basta riscrivere un commento divertente Sotto questo video E notevi ricordo che in descrizione avrete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook e quindi seguiva Seguitevi su Instagram, Facebook e mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi per supportarmi E ragazzi vi do appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi